Amici Pellini, ma se può fa che io mi devo svegliare, mi metto la maglietta di Meretta e Meretta è infortunato e pare sia pure una cosa grave? Allora adesso che io ci sto ragionando, qualcuno me lo scriverà nei commenti, perché è la caduta di Genoa, che probabilmente è caduto male sulla schiena, vertebra eccetera eccetera. E quindi se poi Ospina, se poi Ospina, perché parrebbe se poi Ospina non torna in tempo e quindi la Colombia così contro la Juventus, gioca a Marfella, gioca a un 18enne, aiutatemi, aiutatemi tutto perché così non va bene. E poi vi dico questa cosa, continui, non sta giocando nemmeno titolare l'Eccrotone, vi rendete conto? Dov'è il mazzo? A noi ci serviva il mazzo, dov'è il mazzo? Dove sta? Uno non vuole nemmeno recriminare, va bene, il mercato, il mazzo dov'è? Dove sta? Scrivetemi poi nei commenti gli aggiornamenti perché io non ce la faccio, non ce la faccio mai rete, rete.